Rolex Submariner Diamanti. Sportività e sfarzosità made in Rolex. Il Rolex Submariner è uno degli orologi più iconici e apprezzati al mondo. Il Rolex Submariner Diamanti è disponibile in diverse versioni, che differiscono per il materiale della cassa e del bracciale, il colore del quadrante e la presenza di diamanti sulla lunetta e o sul quadrante. Tutte le versioni hanno in comune il movimento automatico certificato come cronometro di superlativa precisione, la cassa Oyster da 40 mm o 41 mm di diametro, l'impermeabilità fino a 300 metri di profondità, la corona di carica a vite triploc, la lente ciclope sulla data ore 3. Il quadrante può essere di colore blu, nero o verde, a seconda della versione, e presenta degli indici applicati e delle lancette in oro, rivestiti di materiale luminescente Chromalight, che assicura una leggibilità eccellente in ogni condizione di luce. Il quadrante può presentare anche dei diamanti al posto degli indicici, che conferiscono un tocco di lusso e di eleganza al Submariner. Il quadrante è firmato Rolex, con il logo della corona a ore 12, e riporta la scritta Submariner a ore 6, con la profondità massima di impermeabilità espressa in piedi e in metri. Il Rolex Submariner Diamanti è un orologio che rappresenta il meglio della casa svizzera, capace di coniugare lusso e tecnologia, tradizione e innovazione, eleganza e sportività.